Musica Più semplificazione e meno burocrazia. L'obiettivo è ambizioso e la Toscana ha predisposto alcuni strumenti operativi per raggiungerlo. A partire da una serie di servizi che consentono di risparmiare tempo e risolvere i problemi, come la piattaforma online Open Toscana, ma anche più competitività grazie ad internet più veloce. Ne parliamo con l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli. L'obiettivo di Open Toscana è avere un luogo dove, anche piano piano, perché bisogna stare attenti a non fare errori, perché il servizio per i cittadini ci mette un attimo a non essere visto bene e invece è un percorso anche più lungo per farlo apprezzare da tutti. L'obiettivo è che chiunque ha bisogno di qualcosa che riguarda la pubblica amministrazione toscana alla lunga sa che il suo Open Toscana può in qualche modo trovarlo. Già ora vi sono tutti i servizi online che mette a disposizione la regione, si può pagare il bollo, si può pagare il tietto sanitario, si può vedere quello è proprio fascicolo sanitario, ma anche proprio fascicolo diciamo delle incombenze da un punto di vista delle altre attività di pagamento verso la regione e presto saranno ospitati anche tutti i servizi online della pubblica amministrazione toscana e in modo particolare dei comuni toscani. E questo costruirà quindi piano piano un luogo in cui, come si fa adesso per fare un viaggio e si va a cercare degli operatori, si andrà a cercare in Open Toscana per quelli che sono i servizi della regione. È anche un po' una comunità Open Toscana che sta al centro delle nostre politiche per l'agenda digitale perché si trovano anche altri servizi. Intanto la pubblica amministrazione sempre di più deve diventare cooperativa, non dare solo servizi a sportello ma anche ricevere indicazioni, suggerimenti e poter progettare anche insieme ai cittadini. Lì vi è un luogo che si chiama Partecipa Toscana dove questo può essere fatto e poi si possono trovare tutti i big data sia della regione ma sia anche delle altre pubbliche amministrazioni. Già questi sono i nostri, per esempio, big data dei trasporti, sono utilizzati dai maggiori player come Google, come Microsoft, come Apple. Ma è chiaro che se non vogliamo lasciare uno slogan, questo discorso della semplificazione, lo strumento migliore per farlo è quello di investire molto sull'informatica, su digitale, sulle banche dati. L'esperienza migliore che abbiamo raggiunto l'abbiamo fatta sui swap. i swap sono il luogo dove le aziende vanno, i cittadini vanno per avere un'autorizzazione, per poter fare una pratica edilizia. Ecco, prima erano uno diverso dall'altro e era difficile anche per un'associazione di categoria, per un professionista che aveva da svolgere questa attività di mediazione verso l'impresa e il cittadino, avere tanti modi diversi di interfacciarsi. Oggi abbiamo unificato in un'unica piattaforma questa interfaccia e quindi è molto più semplice. È una piattaforma che a questo punto è uguale in tutti i comuni della regione e adesso vi stiamo portando anche tutte le pratiche ambientali che abbiamo ripreso e che quindi potranno essere svolte da ufficio, da casa, dall'azienda con estrema facilità su tutto il territorio regionale. Noi abbiamo evaso tutta la parte della DSL, diciamo, della banda larga. Abbiamo coperto tutti i territori che nel censimento nazionale risultavano osiddette aree bianche, cioè dove non arrivava il servizio di ADSL, che è quello sotto i 30 megabit, e ora stiamo passando, prima regione in Italia, ritengo, a fare aprire i cantieri, già 11 sono aperti, sulla banda ultralarga, cioè con velocità di trasmissione superiore ai 30 megabit per secondo. Io credo che questa sarà l'infrastruttura più importante della regione nei prossimi anni, come abbiamo imparato nella realizzazione della banda larga, queste grandi infrastrutture tecnologiche innovative spesso si fermano di fronte alle piccole cose, come un sistema veloce per far passare un cavo in una strada, su cui c'è un permesso troppo lungo e viene rilasciato dal Comune, o siamo sottoposti a quelle che sono i pareri di un grande utente, autostrade, ferrovie, eccetera. E quindi noi ora dovremo realizzare concretamente un'azione per velocizzare questi cantieri, avere un anno prima, due anni prima del resto del Paese la banda ultralarga sarà un grande elemento di competitività rispetto al resto del Paese che noi possiamo indurre sul nostro territorio. Per cui, come abbiamo fatto nelle ultime esperienze della banda larga, lo faremo per la banda ultralarga, convocheremo tutti gli enti insieme in una conferenza di servizio, abbiamo già le convenzioni onicomuni e si impegnano a velocizzare tutto questo e quindi cercheremo in un unico momento di avere i pareri da tutti e velocizzare l'implementazione della banda ultralarga, che peraltro va su tutto il territorio toscano e copre tutta la popolazione toscana. Questo è l'esito della gara, a questo punto occorre farla e farla velocemente. L'impegno economico peraltro è importante perché sono 230 milioni, i mezzi nostri e i mezzi del Ministero bisogna essere riversati quanto prima sul territorio perché questo produce davvero crescita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.